putting in the cheeky room Salve a tutti bimbi e benvenuti ad un'altra puntata della Casa di Pemper puntuali come sempre noi ci ritroviamo qui e iniziamo subito il nostro programma in un modo veramente eccezionale perché cominciano i cartoni di Napo un uommino che come sempre si imbatte in piccoli problemi quotidiani un po' come tutti stiamo a guardare Allora, allora Grazie a tutti 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 In attesa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti